come funziona l'agar agar? l'agar agar è un gelatinificante ricavato da un alga la proporzione generica per poter utilizzare l'agar agar è quello dello 0,6 per cento questo che cosa vuol dire si utilizza un litro di un qualsiasi prodotto e lo si va a gelatinificare con 6 grammi di agar agar magari ti può capitare utilizzare ad esempio dei succhi con un'acidità più elevata e allora bisogna alzare questa proporzione magari bisogna andare verso lo 0,8 lo 0,9 anche l'uno per cento per attivare l'agar agar dobbiamo arrivare alla temperatura di 100 gradi una volta che facciamo bollire il nostro prodotto per circa un minuto possiamo andare a spegnere e quando si andrà a raffreddare l'agar agar diventerà solida diventerà una gelatina l'agar agar è anche termoreversibile cosa vuol dire vuol dire che se vai a riscaldare il prodotto torna a essere liquido come prima